Voi sapete che con il decreto assessoriale di gennaio gli indirizzi di paedonto tecnico sono stati aggregati all'Istituto Berendino, pertanto loro se ne devono fare una ragione, non appartengono più al liceo Lucio Piccolo, quindi si troverà la giusta collocazione per tutti. Al momento, essendo il plesso stato affidato a me già dal 2014 all'Istituto Lucio Piccolo, le mie classi prime adesso sono ubicate al primo piano di questo plesso, mentre a Pianterreno ci sono le classi del liceo artistico e i loro laboratori. Io non credo che si possa trovare una soluzione diversa da quella già proposta tante volte nel corso dell'anno, nelle riunioni con la città metropolitana, però diciamo che il diritto di questi ragazzi di accedere alla serra, quello c'è ovviamente anche perché è esterna, quindi i ragazzi possono tranquillamente, i ragazzi dell'agraria, fare attività in serra, così come le devono fare in azienda. Mentre per i ragazzi del laboratorio odonto tecnico, mi sono stati chiesti più volte i sopralluoghi, fino a due giorni fa sono venuti i tecnici della città metropolitana a prendere le misure e a quantificare, a fare un preventivo per poter trasferire il laboratorio odonto tecnico nel più breve tempo possibile.